Così riscaldi, eccolo, giornalista di cronaca cittadina e sportiva nell'anno 2010-2011 con i fatti ha dimostrato un grande I love you per il sorrento calcio, grazie Tonero. Catano io mi devi consentire, devo essere un attimo polemico, se dici solo 2010-2011 è molto riduttivo per me perché seguo il sorrento da più di 40 anni e oggi un amico mi ha ricordato sei l'unico vivente del grande sorrento di Andrea Torino e di Achille Laura, grazie.